Quale buco scegliamo? Il buco del crewmate blu oppure il buco del crewmate verde? Il blu o il verde? Quindi, allora, non so, io da una parte direi il blu, perché il blu è il colore dei diamanti! Ma dall'altra parte il verde è il colore del vomito, sì, infatti il colore è il colore del vomito, della moccionolosa, non mi piace. Io scelgo il colore blu, fatemi sapere quale colore avete scelto e mettete un bel mi piace, bello fresco di giornata, ecco, bravi! Scegliamo il blu, ma prima prendiamo le... oh, 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 guarda cosa ci ha lasciato Babbo Natale in questa chest! Questo lo prendo io, anche questo, oh, anche queste le prendo! Ecco qua la nostra armatura spaziale, perché per andare nello spazio diamo un gaso, comunque serve l'armatura spaziale! Eccoci qua, sono Optimus Vittorio, ecco, sono un transformer, vedete? Bene, adesso nessuno ci potrà fermare con questa super armatura, ma possiamo anche volare? No? Sembrava di sì. Va bene, iniziamo l'avventura! 3, 2, 1... patate, cipolle, aglio! Mamma mia, che caduta, mi sono fatto malissimo! Mangiava un pochino di carne, che non si sa mai. Chi c'è qui? Mani in alto! Ehi, ciao! E qui la festa, gente? Allora, mi sa che qua c'è qualche impostore. Dove sono i diamanti? Qua c'è qualcosa? Non c'è niente. I diamanti, parla! Non parli? Allora vuole maniere forti, eh! I diamanti dove sono? Niente, tu non parli. Tu invece parli e gli dici qualcosa, eh! Tu, che fai? Aia, era l'impostore! Sei pure tu un impostore! Vai via! E tu invece? Tu sei amico o nemico? Hello, Vittorio! Ciao, dammi, dove sono i diamanti? Non ci sono! Oh, oh! Via! Via, via! Voglio diamanti! Aspetta, ma qua c'è un teletrasporto! Dove è questo teletrasporto? Ehm... Salve, gente! Qualcuno ha i diamanti in quel mezzo? Oh, mamma! Oh, mamma! No, scherzavo, 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 scherzavo! Ok, me ne torno, me ne torno! Nessuno ha i diamanti! Ma allora, aspetta! Oh! Oh, chi c'è qua? Un crewmate! Ciao, crewmate! Che ci fai qui, accovacciato? Grazie per avermi salvato! Là c'è una botola, scappa! Quale botola? C'è una botola? Dove? Questa? Ah! Bisognava andare in questa botola! Ma potevate dirmelo prima! Oh, un altro passaggio segreto! E da qua dove si va? E allora... Ah! C'è il crewmate pomodoro E il crewmate maionese Allora, scegliamo Il buco della maionese O il buco del ketchup? Eh? È così Allora, non lo so Io, personalmente, faccio parte del team ketchup Voi invece di quale team fate parte? Scrivetelo nei commenti! E mettete like sempre per votare Ehm... Allora, non lo so Io scelgo, vediamo No, io scelgo il buco ketchup Perché mi piace di più il ketchup Ketchup! Aio! Oh oh! Un'altra stanza segreta qua Siamo in... Ehm... Communication Questa è communication Sì, esatto Infatti perché ci sono i computer Ci sono le sedie per comunicare Ehm... Sì, esatto Perché noi siamo le sedie per comunicare Certo, Vittorio Allora, ehm... Tu, crewmate, che c'è? Ehm... Non lo trovo più Ti scongiura Aiutami Cosa non trovi? Il diario Oh, poverino Ha perso il diario E cosa vuole in cambio? Se gli diamo il diario Lui ci dà delle tenaglie Tu invece cosa c'è? Ciao amico bello Lui invece vuole le tenaglie Che ci dà la polvere Tu robot cosa? Spia robot cleaner Un robot aspirapolvere Ehm... Ah, c'è lui il diario E anche un pezzo di carta Un codice Crewmate E lui vuole il codice E ci darà la card Perfetto Ehm... Però ragazzi Ci serve il diario Ah, non lo so Vediamo cosa c'è in questa stanza Ehm... Qua c'è qualcosa Non c'è niente Attenzione Ci potrebbe essere qualsiasi cosa Oh, mammina Cosa diavolo sono? Esseri venuti dallo spazio profondo Aio, aio Via Via Cosa c'è? Mi gira la testa Ah, sti così qua Lasciano la melma La melma che potrebbero scambiare Allora ne prendo un po' qui Grazie E anche qua Se non vi dispiace Oh no Ho finito le munizioni Allora usero la mia sfada Zazza Zazza Aio 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 Mi gira la testa Oh mamma mia Ah, sono velenosi Per questo mi gira la testa così Ehm... La melma Grazie Datemi un po' di melma Grazie Ne è abbastanza E adesso la melma Oh no No Sono venendo qui Sono entrati No 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 Muoio 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 Carne 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 Ok Mi sento meglio Ci sono altri Altri esserini? No Ce n'è uno laggiù Ehi tu vieni qua Ah se n'è andato Perfetto Allora Chi è che voleva La melma Tu Melma spaziale Melma spaziale Pronta per questo Signorino E abbiamo il diario Del crewmate Che adesso possiamo dare A lui E in cambio ci darà le tenaglie E le tenaglie le diamo Al sparchi Sparchi ci dà la polvere E la polvere andava Secondo me al robot Di nuovo Si Che ci dava il codice E il codice E il codice Serviva a lui Giusto? Esatto Abbiamo la card Abbiamo la card Abbiamo la card E aspetta un attimo Questa qua dove la mettiamo? Ci dovrebbe essere una porta Dove utilizzarla Ma io qua Non vedo nessuna porta Non c'è Forse dobbiamo entrare qua dentro Qua c'è una porta Oh mamma no Qua ci sono quegli esserini di prima Ragazzi aiuto Morirò vero? Si muoio 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 Eccola E' qua E' qua Apri 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 Aperto Aperto Chiudi chiudi No 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 Scusami 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 Non ti ho toccato apposta Oh mamma Ecco lo sapevo Lo sapevo Allora adesso Allora Quale scegliamo? Il viola Oppure l'arancione? Ma Boh Non lo so Il viola Non è che mi ispira tanto Perché mi ricorda Thanos Ok Thanos Quindi il viola è cattivo L'arancione invece Mi ricorda Iron Man Sì Anche se Iron Man È rosso Sì Anche se Iron Man È rosso Lo so bene Però Comunque Mi ricorda più lui Quindi io direi di scegliere l'arancione Mi sa che forse è la scelta giusta Però Voglio dire Se scegliamo il viola Dove andiamo? Andiamo nel vuoto siderale Ecco dove andiamo Non ci casco signore Ecco tieni Oh Oh scappo 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 Ah non mi ha dato da pugno Meno male Ok Ahia no E' sceso E' sceso E' sceso No 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 Scherzavo Vai via Aspetta ti sparo Ciao Ecco Oh Ma perché non l'ho preso? E' mortale Non si fa niente Ah no ecco Ok se n'è andato Meno male Ok questa sarà l'ultima sfida credo Chi c'è qua? Salve Buonasera Si può entrare qui? Qualcuno mi fa male? Tu mi fai male? Oh no scusa Non volevo Non volevo Aiaia E' un impostore E' un impostore Aiuto 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 no 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 Aspetta ti sparo Ti sparo nelle parti basse Così non mi puoi prendere Pa 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 Ma ragazzo Non si fa niente Immortale Guarda vita Tiene questo E' fortissimo Allora userò la granata Aha Oh che c'è? Che c'è? Scusami Scusami Non volevo farti del male Cosa succede? Scusami Non volevo farti del male Soltanto che esplosa la granata E quindi sei rimasto coinvolto anche tu Dimmi tutto Finalmente sei arrivato C'è un codice nascosto nella stanza Trovalo e prendi il tesoro Un tesoro Qui vicino a me Ma non c'è nulla Scusami E invece si che c'è il tesoro Guardate ci sono i diamanti là dentro Dobbiamo entrare qua Però giusto come dice lui Serve il codice E sarà nascosto qua Ma è come trovare un ago in un pagliaio Dove iniziamo a cercare? Qua? Qua c'è il codice Codice sei qui? No Codice 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 Dove sei? No mi sa che forse è stato in questi armadietti No qua non c'è Qua non c'è Questo Sarà questo il codice? Eh sì 71800 Proviamo 71800 È lui È il codice Sì Siamo ricchi Siamo ricchissimi Siamo ricchi Siamo ricchi Siamo ricchi Perfetto Adesso possiamo Controllare cosa c'è qua dentro Mamma mia raga Quanti diamanti Questi li utilizziamo Per fare il castello Di diamanti Ci li portiamo Tutti quanti a casa Perfetto Adesso dobbiamo soltanto Tornare indietro Però Come? Come facciamo a tornare indietro Da qui? Qualcuno di voi ha un piano? Eh Ragazzi Siamo fregati Vabbè comunque Io sono Vittorio Mettete like Se il video è piaciuto E se non vi è piaciuto Non fa niente Io vi voglio bene lo stesso Ci vediamo Ciao Ciao